Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle bellissime Build Battle In compagnia del mio amico Pollo, che è il... Ehi, psst, ehi, vieni qui Che c'è per la macchina? Vieni qui, 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 shhh Perché si parla di questo modo? Ci potrebbero, shhh Potrebbero sentire Ma chi ci potrebbe sentire? Vuoi sapere il segreto per vincere tutte le Build Battle? Oh, ma certo che lo voglio sapere, dimmi, dimmi Per fare la costruzione più epica del mondo Sì, 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 dimmi, dimmi, dimmi Per avere il controllo assoluto di me Sì, ho detto, sì, lo voglio sapere Ok, allora dobbiamo andarne a farne una, perché io non ne ho la più pallida idea Ma come, ma... Sì, quindi andiamo, forza, dai Ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video E adesso andiamo a giocare Dobbiamo costruire una spia Una tartaruga Uh, il fuoco Il fuoco Potremmo fare... Allora, aspetta, ho un'idea Facciamo un palazzo gigante che va a fuoco e il camion dei pompieri Uh, vai, bellissimo Posso farlo il camion dei pompieri? Possiamo provare, sì Allora, inizio a fare il palazzo, perché ho già un'idea più o meno Voglio fare il palazzo come quello di Fortnite Però... Ok Faccio il pompieri io, intanto? Sì, tu inizia a fare il coso dei pompieri Ok Allora, che palazzo... Facciamolo di questo colore, il palazzo Sì, 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 dai, ci sta Allora, deve essere uno di quei palazzi molto alti, però semidistrutti Perché ovviamente il fuoco se lo sta distruggendo Se lo sta distruggendo No, troppo alto, altrimenti come cavolo lo finiamo Un po' meno picco, un po' meno alto Va bene qua il camion? Sì, 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 va bene Lo voglio esattamente là il camion Beh, è vero che solitamente tu le fai sotto sopra le costruzioni E questo è Kendall, ragazzi, quando si lamenta che io faccio le costruzioni di lato E questo invece è bella faccia quando parla normalmente Non è vero niente Questo è quello che sento io quando parla Allora, dai, iniziamo a lasciare un pochettino di finestre, così Non litighiamo, bella faccia Non è possibile che dobbiamo litigare sempre? Eh, in effetti, sì Ad ogni build battle litighiamo Perché? 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 Il mistero della vita, perché? Perché? Cosa c'è dopo la morte? Cosa c'è oltre lo spazio? Perché bella faccia e Kendall litiga? Uno, due, tre Uno e due Ok, quindi uno e due Poi così Ok, non sarà facile fare questo palazzo, sai? Hai detto che lo sai fare, eh? Quindi? Beh, sì, ci sto provando Non lo sai fare? Bene Perfetto, lo sapevo Lo so fare Io ho detto che non mi potevo fidare Mai fidati Voglio fare uno di quei palazzi semi distrutti Tipo pinnacoli pendenti di Fortnite Ma perché? Non so se si sta ancora con la città, tra l'altro Perché la mappa l'hanno cambiata, se non sbaglio È vero, sì Boh, non lo so Io non ci gioco più Allora, uno e due Così Facciamo ora queste finestre tipo così 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 Ti piace? Vedi come sta avvenendo? Quelle sono le finestre Carino, sì Potrei impregnarsi di più Ma se non l'hai neanche guardato Non lo hai Bellino Bastanza, dai Non male, non male Ragazzi Ma io Ma cosa ci gioco a fare io con lui? Cosa ci gioco a fare? Io cerco un altro giocatore Se qualcuno di voi è disponibile a giocare con me Fatemelo sapere No, no, no Rimpiazzo Bellafaccia con uno di voi No, no, non si provare Ti dispiacerebbe? Eh, ti manco dopo Lo so Ah, certo Sì, 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 sì Ok, stiamo scherzando Comunque ragazzi Io Bellafaccia non litighiamo No, io non scherzo Sai che ogni tanto mi arrivano Tipo le domande Ma tu hai Bellafaccia litigate? Io non penso che Mai, mai litigato No, però infine Io sono troppo ganso per litigare Sono troppo ganso Ma cosa sei uscito dagli anni 90? Ma tu usi certi parole Io sono ganso Sono ganso Ma cosa ridi? Bellafaccia è appena uscito dagli anni 90 Da un telefilm Ma guarda che loro non sanno cosa significa ganso Ganso uno fico Uno alla moda Uno fico Uno solo fico Il fico da mangiare Dai, facciamo questo palazzo che è male Allora, guarda Questo è il camion dei pompieri E questa è la pompa d'acqua Che spruzza l'acqua Hai visto? Sì, sì Ma cosa stai Mi stai ascoltando? Sì, sì Come no? Guarda È partito il colpo Vediamo Oh, bello Sì, mi piace Ok, mi vuoi iniziare a dare una mano? No No, dai Fai i dettagli del camion È vero Ancora è bruttino Ma che cosa? Come vuoi? Come ti permetti? È ok È ok Come ti permetti? Io non gli darei un leggendario ancora al tuo camion Ok, aspetta, aspetta Ti faccio vedere io adesso Allora, adesso qua ci mettiamo tipo della legna Per le fiamme all'interno del palazzo Mi dovrei dare una mano Perché sono indeciso Potremmo utilizzare l'accendino E metterlo a fuoco veramente Oppure potremmo fare delle fiamme sintetiche Con il vetro Che è più colorato e più bello È da decidere, è da vedere questo Perché secondo me il vetro fa un bel effetto Il problema è che non l'abbiamo mai utilizzato in un palazzo Possiamo provare Possiamo provare Ma è carino Sai cos'altro dobbiamo metterli? Gli spuntoni Uh, è vero Quegli spuntoni tipo di ferro che escono dai palazzi Dalla cima dei palazzi Perché ovviamente servono tipo per le fondamenti È vero, è vero No, non ho capito un bel niente Però va bene, sì Bene, perfetto Ci penso io, stai tranquillo Allora, guarda Tipo così, guarda qua Così, così E così Per far capire che questo qua Questo tipo, capito, no? Eh, sì, sì Come no? Sì, sì Molto, molto Non sono delle antenne, ragazzi Ma da loro hanno capito I miei iscritti non sono mica stupidi Ma non ha capito nessuno, Kendall Stai dando degli stupidi ai miei iscritti No, no, a te La fiamma è qua Dietro, dietro, dobbiamo muoversi, eh Dobbiamo muoversi Abbiamo 40 al cavolo di secondi No, non ci posso credere Abbiamo perso troppo tempo a fare tutto il resto E non abbiamo fatto la cosa più importante T'aiuto io, t'aiuto io Allora, rosso, rosso qua La pioggia? Perché c'è la pioggia? Eh, l'ho messa io No, no, è l'acqua, è l'acqua Ah, è un effetto? Sì, sì, è un effetto Un effetto tattico Rosso di te, di sera Bel tempo si spera Bel tempo si piove Eh, pioggia di notte Eh, scarpe rotte Marmotte tutte rotte, sì Marmotte tutte rotte Va bene, eh Ok, dai, dai, dai Un bel effetto Sembra che stia andando a fuoco veramente Infatti sono stato bravissimo Sì, è stato veramente bravissimo Sono stato bravissimo, eh, questa volta Bisogna ammetterlo Sì, sì, sì Ok, così Wow, bello Bello, eh Vediamo Eh? Eh, un bel palazzo che va a fuoco con il Sì, no Il camion Oh, fire Eh, ma cosa siamo? L'inferno Eh, però È questo il tema Quindi Io gli do un ok Ok, sì, sì Sì, è molto macabro Però va bene Molto, sì Il nether Uh Ok, perché ci sono tanti villaggi Cos'è? Tipo un rito Un rito? Bello, ecco Eh, però questo è bello, eh È fatto molto bene Però è classico Good, però se lo merita, dai Ok, good Good se lo merita No, era per la costruzione Assolutamente Ecco, questo Un pochettino meno, forse Un pochettino meno, quindi ok Ok Anche la nostra costruzione, secondo me, è da good Non è da leggendario, ecco BTS Non ci credo Così, ma perché? È una band K-pop Dai, gli do un ok Uh Che pastrocchio Il fuoco No, però non è male Oddio, non si capisce mo Che è? L'angure, cosa si fanno? Un ok, un ok Ok, questo? Bello questo Carino Però hanno fatto tutti Hanno fatto tutti la stessa cosa Tutti la stessa cosa Noi abbiamo messo più fantasie nella nostra costruzione Ed è per questo che Una fontana di lava Una fontana di lava No, questa è una pub No Dai, scusami, eh Ma in sette minuti ti puoi proprio impegnare di più, eh Qui non si vede niente Guarda, tutti la stessa identica costruzione Questo è bello Questo è bello Un altro good Un altro good Sì, questo è molto bello No, leggendario No, leggendario Quindi, leggendario Sì, sì, sì Guardate, ragazzi È una costruzione fantastica Leggendario Super poop Super poop Noi siamo stati gli unici ad aver fatto qualcosa di diverso Incredibile Comunque, secondo me, vinse quel fuoco di prima, ti giuro Eh, un altro Ma quando esce la nostra? Ho visto tutti votare leggendario prima In quello piccolo, ma stai scherzando? Sì, ti giuro No, ti prego No, no No, non mi piace Poop Poop proprio Cioè, la fiamma ci sta, però Oh, ecco il nostro Un palazzo in fiamme Con i pompieri Dai, ragazzi Questo è bello, no? Questo è bello Sta laggando tantissimo Ma non importa Votate leggendario, per favore Eh? Eh, no, un altro Vabbè Super poop io pure Di nuovo Basta Basta Vi dovete impegnare nelle costruzioni Non potete fare cose stupide E poi vincere Non è giusto Non si fa così Ma tu Noi siamo settimi E ha vinto questo Vabbè, io te l'avevo detto Io me ne vado Bella faccia È stato un piacere di giocare con te Addio Ah, non è possibile Non ci posso, scusami Però faceva ridere Eh, che andrà? Che andrà? La fatina, bella faccia Potremmo fare la fatina dei denti La fatina dei denti Ok, ho un'idea Facciamo immediatamente un letto Ok Si posso pensare Immediatamente un letto Sì, sì, sì Guarda così Facilissimo E facciamo un bambino che sta dormendo L'abbiamo già fatto una volta Quindi non è difficile La cosa difficile da fare Sarà la vera e propria fatina Perché dobbiamo fare una specie di Le ali Cosa stai facendo? Ah Ma che cavolo No, ma lei cance Vabbè Ma che cavolo Ok, stiamo perdendo tempo Ma non importa, non importa Facciamo il letto E facciamo una fatina con le ali Per fare la fatina Io direi di farla simile Tipo a una libellula Oppure Ah, una farfalla Una libellula Poverita Sì, sì Guarda, tipo così Guarda qua Vediamo Allora Iniziamo a farla tipo così Con questo corpo piccolino Una libellula Poi gli mettiamo tipo ai vestiti Ok, guarda Facciamo finta che questa qua tipo È la nostra fatina Con Queste sono le braccia Ha una mosca Questa è la sua testa Sì, tipo Dai Cioè Non deve essere proprio No Ecco Questo è il lettino Del bambino piccolino Sì, perché sta volando lei Quindi gli facciamo le ali adesso Per fare le ali Bella faccia Ci vuole il tonno Per fare Il tonno Ci vuole le ali Ma cosa dici? Per fare le ali Ci vuole Kendall Ma sei bravo a fare le ali comunque Sì Sì Te sei molto bravo Grazie Ah, ogni tanto vedete ragazzi Anche lui mi fa i complimenti A parte questo Sì, si poteva fare un po' male Queste sono le ali Io direi di mettere anche un paio di sfumature Tipo di più scuro Quindi tipo così negli angoli Eh È bello Che te ne pare così? Sembra che gli manca un dente? Bello No? Sembra Sì, sembra Normal È una fatina dei denti E gli devi fare ovviamente anche una barchetta alla fatina Oh, sì, è vero Ok, quindi questi sono i suoi occhi Così Sembra un pochettino depresso Sembra che sta guardando Però Lo scopo ragazzi Cioè dobbiamo cercare di far capire che sta dormendo Ok Quindi c'ha la testa girata Verso di là Questo qua è la sua testa Così Non lo facciamo pelato Magari Bella la bacchetta magica Oh mio Dio Ok, mi piace Mi piace tantissimo Molto meglio, vero? Vestito rosa Ali turchesi Ok Ora bisogna mettere delle particelle accanto alla nostra patina Quindi particelle di cosa? Vediamo Particelle di magia Forse questi Vediamo un po' Allora Vediamo come ci stanno Oh sì Bella Ok Una della bacchetta Oh Non troppe Così Due, due Oh bellissimo È una Adesso un paio qua dietro nelle ali Per fare capire che sta volando Ok Perfetto E se noi li facciamo Zzzzzzzzz A lui? Ah Devo fare zzzz Che sta dormendo Zzzz Sì Eh vedi se viene bene Sì dai Se no No Questo è un 5 Bella Tanto non vinciamo neanche stavolta Esatto Arriveremo all'ultimo posto Sicuro Beh è una bella costruzione La patina c'è I dentini ci sono A quello gli manca proprio Il dente Sì infatti Guarda C'è proprio qua È cavato C'è un buco proprio Oh Uno il nostro Beh allora direi che Subito un leggendario ragazzi È un buon segno Allora fatemi vedere i leggendari Bene ho visto un epico Che non li vedo Un epico Ho visto un pop Ho visto un leggendario Bene bene non male Questo Oh Ma che è la patina pelata questa Ma no Ma perché è pelata Adesso Cos'è Bagno Gabinetto Ma dove sono i denti E dov'è la patina Denti frizzo forse Ma cosa c'è Ma perché gli ho dato ok Gli dovevo dare super bu Questa sembra una principessa con le ali Però Ok Nulla di che È una fatina e basta Ma io la voglio dei denti Vabbè ma Questo sembra un supereroe Questo non mi piace Cos'è con la tutina Bello questo Questo mi piace molto Questo è un good Un altro angelo Questa è bellina Sì ho capito ma non è una fatina È un angelo Però la fatina Dai un good Ok Oh Loro il primo Noi terzo posto Terzo posto Non male Non male Non male Non male Ragazzi Sì seppur la prima L'abbiamo persa Contro uno schifo di costruzione Ci siamo divertiti lo stesso E bella faccia Ancora mi devi dire il segreto Ehi vuoi sapere il segreto Sì qual è Eh devono lasciare prima Almeno almeno 8000 mi piace Subito eh Ma subito subito 8000 mi piace E bella faccia Vi dirà il segreto Dal vostro Kendall E bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao